Destini intrecciati dalla fortuna. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio raccontarvi la storia di un protagonista comune, come me e voi, che vive una vita ordinaria, ricca di routine. Un giorno, mentre esplora il mondo dell'intelligenza artificiale, decide di acquistare un biglietto della lotteria. Un gesto casuale, quasi ironico, nel suo mondo di algoritmi e dati. Quando scopre di aver vinto, l'incredulità lo travolge. È come se un programma avesse generato un risultato inaspettato, cambiando ogni sua prospettiva in un battito di ciglia. La sua quotidianità viene immediatamente stravolta. Le priorità si rimescolano. E la fortuna sembra giocare con la sua vita come un'intelligenza artificiale che riscrive le regole del gioco. Inizia a chiedersi se condividere la sua nuova ricchezza o tenerla per sé. È un dilemma morale complesso, che richiama i dilemmi etici dell'intelligenza artificiale. Come usare il potere con saggezza? Gli amici e la famiglia reagiscono alla vincita con entusiasmo, ma il protagonista inizia a dubitare delle loro reali intenzioni. È difficile distinguere il vero affetto dall'interesse mascherato. Nel frattempo, la fama improvvisa travolge la vita ordinaria. I media cercano costantemente un'intervista, rendendo ogni momento privato un ricordo lontano. L'attenzione indesiderata diventa una nuova sfida. Con la ricchezza arrivano nuove domande sulla vita e sulle priorità. Cosa conta davvero quando i soldi non sono più un problema? I valori cambiano, ma il cuore rimane lo stesso. Gli incontri con consulenti finanziari aprono un mondo di opzioni. Fini, investimenti, risparmi e piani a lungo termine diventano argomenti quotidiani, mentre il protagonista cerca di proteggere e far crescere la fortuna. Le tentazioni della ricchezza sono ovunque, dai beni di lusso alle offerte d'affari rischiose. Navigare tra queste seduzioni richiede saggezza e autocontrollo, per non perdere di vista ciò che è veramente importante. La nuova ricchezza ha aperto le porte a esperienze di lusso mai immaginate. Viaggi in destinazioni esotiche, cene nei migliori ristoranti e nuovi hobby come la collezione d'arte riempiono le giornate. Con il tempo emergono i primi interrogativi sui veri amici. Chi si avvicina per sincero affetto e chi per interesse? Le relazioni si mettono alla prova, svelando verità nascoste. Guardando indietro, la fortuna appare come un potente catalizzatore di cambiamento. Tutto ciò che era familiare è stato trasformato, portando nuove sfide e opportunità che ridefiniscono il concetto di successo. Incontri con altri vincitori svelano esperienze simili. Condivisione di consigli e riflessioni crea una rete di sostegno, dimostrando che, nonostante le differenze, le sfide sono spesso universali e comuni. Dopo molte lezioni apprese, emerge una nuova saggezza. Usare la vincita con uno scopo significativo. Investire in progetti che fanno la differenza diventa la nuova missione, portando equilibrio e soddisfazione. Dopo la vincita, ho trovato un nuovo equilibrio nella mia vita. Mi sono reso conto che, oltre alla ricchezza, è fondamentale avere uno scopo che dia senso alle giornate. La fortuna mi ha insegnato che il destino può cambiare in un attimo. Ho imparato ad apprezzare di più le piccole cose e a vivere ogni giorno con gratitudine e consapevolezza. Per chiunque si trovi in una situazione simile, consiglio di rimanere con i piedi per terra. Gestire la ricchezza con saggezza e circondarsi di persone fidate è essenziale per mantenere la serenità. Guardando al futuro, vedo infinite possibilità. Ho imparato che la vera ricchezza risiede nelle esperienze e nei legami umani e sono pronto a continuare il mio viaggio con questa consapevolezza. E voi? Cosa fareste con un biglietto vincente? Lasciate un commento qui sotto e condividete la vostra idea. Sono curioso di sapere come trasformereste la vostra fortuna in opportunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.